Eccoci allora ancora alla risposta dell'uomo alla rivelazione di Dio. Abbiamo detto che la risposta adeguata alla rivelazione che Dio fa di se stesso all'uomo è, da parte dell'uomo, la fede. Abbiamo quindi iniziato il terzo capitolo e nel terzo capitolo, ai numeri 153 e seguenti, ci saranno le caratteristiche di questa risposta, cioè le caratteristiche della fede. Dell'uomo che è appunto, come avevano detto, risposta alla chiamata di Dio, risposta alla proposta di Dio. La fede appunto ha delle caratteristiche. Prima di queste caratteristiche la fede è grazia, cioè dono, dono di Dio. È virtù teologale, cioè che mi viene offerta da Dio, che mi viene donata al momento del battesimo e che si accresce attraverso i doni dello Spirito Santo e gli altri doni che il Signore mette a mia disposizione perché possa io crescere in questa virtù, appunto che è la fede. Ma la fede è anche atto umano. Certo, è impossibile credere senza la grazia di Dio e i doni dello Spirito Santo, ma credere è anche un atto autenticamente umano. Credere, quindi avere fede, non è contrario né alla libertà né alla intelligenza. Anzi, direi che la fede ha bisogno del senso della nostra libertà, dell'assenso della nostra intelligenza. Ha bisogno la fede quindi dell'intelletto e della volontà stessa. Perché ha bisogno? Perché la fede e l'intelligenza sono entrambi dono di Dio. Anche l'intelligenza è un dono che Dio mi fa, no? Il motivo di credere non consiste nel fatto che le verità rivelate appaiano immediatamente ragionevoli. Il credente si fida, si fida di Dio. Cioè, prima di credere è necessario esperire, fare una esperienza che Dio è il credibile. Non posso, come dire, porre, riporre la mia fiducia in qualcuno che non conosco, in qualcuno di cui non mi fido. Diciamo così, il primo atto di fede è nella credibilità, nell'autorevolezza di colui che mi si propone. Quindi nell'autorevolezza stessa di Dio. Quindi, al dono di Dio, alla grazia dello Spirito Santo, Dio ha aggiunto delle altre prove, prove esteriori, possiamo dire così, della rivelazione, che sono i miracoli, le profezie, le testimonianze, che sono anche prove intellettuali, intellettive, intelligibili, cioè anche determinate la ragionevolezza. Insieme, appunto, a questi che sono, abbiamo chiamato, motivi di credibilità ed aiutano l'intelletto a dare il suo assenso alla fede e quindi a Dio stesso. La fede è certa perché si fonda sulla parola di Dio, che è ritenuta certa. Il numero 158 dice qualcosa di molto importante. La fede cerca di comprendere, ed è lecito, direi indispensabile, l'uso della ragione e quindi una ragione che sia illuminata dalla fede. La ragione non è mai punto di partenza, ma indubbiamente la ragione è strumento, mezzo adeguato perché l'uomo possa conoscere al meglio Dio. Agostino dice, Sant'Agostino dirà, credo per comprendere e comprendo per credere. Qualcuno pensa che ci sia tra scienza e fede, per esempio, una divergenza, no? La fede è una cosa e la scienza è un'altra. In realtà non c'è nessuna divergenza tra fede e scienza. Perché Dio è creatore sia delle cose spirituali, ma Dio è anche e soprattutto creatore, per noi lo vediamo, ne facciamo esperienza, anche delle cose materiali. Quindi Dio è anche creatore della nostra ragione. Quindi la nostra ragione, rettamente guidata, rettamente in qualche modo usata, non può non portarci alla visione, in qualche modo, fides e trazio, ci diceva il Papa Giovanni Paolo II, alla riflessione certa su Dio, ad una riflessione che ha bisogno sulla esistenza di Dio, che crede, che rende credibile alla mente la possibilità della esistenza di Dio, non quella della rivelazione, indubbiamente, ma quella della nostra mente, del nostro intelletto. Posso credere che Dio esiste, che è credibile che Dio esista. e quindi la libertà della fede, risposta, la fede può essere solo libera, libera proposta, non può mai essere imposta, ma è anche una necessità, è necessaria per accedere alla salvezza, cioè a quella relazione vitale con Dio che mi salva dall'errore, dalla paura, dallo smarrimento, dal nulla, dalla morte e quant'altro. Ma è necessario anche perseverare nella fede, che cos'è? La fede è un percorso che non conosce stasi, che non conosce blocchi, o si persevera, cioè si va avanti, si cresce nella fede, o la fede, ahimè, si perde. La fede è inizio della vita eterna, cioè è anticipo del cielo, come in uno specchio, dice San Paolo, io posso contemplare le realtà meravigliose del cielo, cioè la beatitudine, la consolazione, la stabilità nella verità, la libertà, la piena realizzazione della mia umanità. Ed è oggetto di testimonianza dei Santi, anche queste realtà del cielo, che sono incoraggiamento per i dubbiosi. Buona notte a tutti. e o buoni.